Oggi vi parlerò di Giovanni Pascoli, la personalità poetica più originale e senz'altro importante del nostro Novecento. La lezione la dividerò in due parti data la complessità dell'argomento. Nella prima parte metterò in luce il pensiero, il pensiero e la dimensione anche umana e artistica di Giovanni Pascoli. Nella seconda invece parlerò della straordinaria varietà delle opere e facendo una scelta antologica. Ora incominciamo. La poesia quasi dappertutto in Europa sul declinare del secolo XIX mostrava scarsa fiducia nell'intelletto, anzi sorrideva sulla sua debolezza. Si dichiarava contenta la poesia di interpretare la parte di una sorta di nutrice che incanta ed addormenta con le sue rime il fanciullo sempre vivo nell'uomo e che la scienza e la filosofia un po' commiseravano. Interessavano le ore crepuscolari e antelucane della giornata, le ore quasi del dormiveglia propizie ai sogni e ai ricordi. L'esempio era stato offerto dal poeta Paul Verlaine, il Le Pauvre L'Alien, il vagabondo penitente del suo peccato si pente e si compiace insieme in versi accorati, espressione di una profonda crisi spirituale. Il poeta però che inizialmente aveva dato vita alla nuova romantica estetica era stato il Novalis, affermando che la nostra vita non è un sogno ma deve diventarlo e forse lo diverrà. Ecco scriveva Ma il poeta nei cui versi si avverte un sentimento ispirato quasi da una forza oscura e onipotente dettata dal mistero che avvolge di sé la vita, la natura, la storia e senz'altro Giovanni Pascoli. Egli inizialmente credette e si definì uno positivista rivolto all'esperienza della scienza, ma nel profondo dell'animo rivelò poi un mistico, si rivelò un mistico ansioso, dubbioso, pieno di sgomento davanti all'enigma delle cose, finché non avesse trovato la speranza e la pace. Diceva Il poeta Giovanni Pascoli nacque a San Mauro di Romagna nel 1855 da Ruggero e Caterina Locatelli Vincenzi. Fu educato nel collegio degli Scolopi a Durbino. Nel 1867 morì il padre, poi i lutti si seguirono a breve distanza, la madre, una sorella, due fratelli. Giovanni poté continuare a studiare con una borsa di studio dovuta alla bontà di persone che rispettavano la famiglia. Compì gli studi medi a Rimini e a Firenze e si iscrisse alla facoltà di lettere dell'Università di Bologna, dove diventò allievo di Carducci e Carducci ne scoprì l'ingegno. A un certo punto interruppe gli studi, per qualche tempo sviato da cause politiche. Aveva conosciuto e era rimasto affascinato dal politico Andrea Costa e subì addirittura un processo e fu condannato a quattro mesi di carcere come socialista rivoluzionario. Poi, incoraggiato dal Carducci, condusse a termine di nuovo il corso di laurea, quindi riprese gli studi, arrivò alla laurea e quando è morto Carducci nel 1905 la cattedra fu affidata proprio al poeta Pascoli, che la mantenne fino alla sua morte e è avvenuta nel 1912. Pascoli giunse, ecco, su Pascoli giudizi critici sono alquanto discordi. Alcuni per esempio preferiscono vedere lui il poeta virgiliano, georgico, cioè il poeta classico, il cantore della campagna, il poeta delle piccole cose. Altri invece preferiscono il Pascoli poeta del mistero e questo evidentemente è segno della sua modernità e in effetti è uno dei poeti ecco più significativi e anche più impegnati della nostra letteratura, soprattutto del Novecento. Comunque è certo che il Pascoli fa parte del decadentismo, anche se il suo decadentismo è in un certo senso privo degli addentellati culturali con quello europeo. Ecco, si può parlare a proposito del Pascoli di uno decadentismo quasi nativo, quasi istintivo nativo. Pascoli infatti giunse al decadentismo dopo una educazione ed una formazione rigidamente classica. Alla radice della poesia pascoliana c'è un'anima solitaria che ebbe una vita opaca, stentata, una vita piena di sventure familiari. Abbiamo visto la morte dei fratelli, della madre, della sorella e nello stesso tempo una vita fatta di povertà e di sacrifici. Il poeta in gioventù appunto aderì alle nuove idee socialistiche ed internazionalistiche e fu in carcere. L'esperienza del carcere fu comunque un'esperienza significativa. Certamente quando ne uscì ogni velletà ribelle era scomparsa, però rimase in lui sempre l'amore per gli uomini che il poeta ritiene tutti fratelli. Il Pascoli si trovò a vivere nel periodo della crisi positivista e perciò aderì al positivismo. Ammirava le teorie positiviste dell'ombroso e si dichiarava uno socialista rivoluzionario, ma toccava poi alla fantasia aiutarlo a liberarsi dai lacci di quel suo intellettualismo. Dico il suo intellettualismo, accettato come una disciplina imposta. Il suo sentimento vero anelava verso l'assoluto e dal mistero vedeva sorgere, diceva, scintillare in cielo fugacemente le promesse e le speranze della fede religiosa. Pascoli quindi fu essenzialmente un mistico. Mentre apprendeva di Darwin dell'evoluzionismo, mentre leggeva attentamente gli scritti di Baconin o quelli di Alexander Herren, il caso li fece giungere fra le mani la, il libro, la filosofia dell'inconscio di Edward Ertman. La filosofia poi, ecco, che aprì gli occhi e punto sulla questa realtà dell'inconscio. La filosofia poi di Schopenhauer e la fiducia nella musica liberatrice di Wagner l'avevano poi aiutato a trovare conforto nel misticismo cristiano, anche se c'era la consapevolezza che il pensiero umano non può mai illuminare e dominare tutte le forze che muovono la vita. La vita per Pascoli deve essere accettata e coraggiosamente vissuta perché ha la sua bellezza e la sua gioia. L'animo umano è come un'eterna fanciulla, riconosce fra tante voci ingannevoli quella vera, che è quella del dovere e dell'amore. Le passioni per Pascoli non possono distrarre per sempre l'animo da queste voci di impegno morale, retaggio di una atavica educazione stoico-cristiana. In un mondo che la scienza vuole senza Dio e senza dualità di spirito, la voce morale che insegna al cuore è il vero grande mistero della vita. La poesia del Pascoli avrà ispirazione popolare e popolareggiante che crea un incanto nell'anima. Aveva ammirato Tommaseo che aveva raccolto canti popolari, corsi e toscani e aveva tradotto canti greci ed illirici e scritto pure poesie che furono molto ammirate dal Pascoli e forse anche imitate. Egli è il mistico Pascoli della natura che cerca se stesso e che il clamore della vita frastorna e soltanto nella solitudine della vita agreste e silvestre può trovare la sua serenità e il suo conforto. Poesia è una poesia musicalmente sottile e suggestiva. È una poesia a volte non sempre facile. Quindi il poeta si trovò a vivere il periodo di questa crisi positivista, tanto che ebbe un'anima però profondamente mistica, anelante alla fede, che lì però non conquistò mai del tutto. Ci rimase sempre un po' di dubbio. Un critico l'ha definito infatti il sacerdote senza altare e un altro critico l'ha definito un mistico mortificato dal positivista. Secondo Pascoli la vita, ho detto, è mistero. Gli uomini sono circondati dall'ombra cupa del mistero, di cui Pascoli sentì sempre una forte attrazione. L'unica nota positiva della vita che esiste realmente è il male. Cioè noi abbiamo conoscenza diretta del male, il quale non è prodotto dalla natura, quindi a differenza degliopardi che definiva matrimia la natura. Ma la natura invece per Pascoli è benigna, ma è prodotto il male dagli stessi uomini per il loro egoismo, perché sono sempre in lotta fra di loro. E nella vita, vita, oltre al male, trionfa anche il dolore che incombe indistintamente su tutti gli uomini. Perciò per far fronte al dolore ed al male gli uomini devono unirsi, amarsi come fratelli, abbandonare ogni odio ed ogni discordia. Il Pascoli per questo è stato definito anche il poeta del mistero del mistero, del dolore, ma anche il poeta dell'amore fra tutti gli uomini. Il Pascoli espose la sua poetica in un brano intitolato Il fanciullino, detta poetica del fanciullino, e prendeva spunto dal fedone di Platone e dice che dentro di noi vi è sempre un fanciullino che resta tale anche quando diventiamo grandi. Questo fanciullino guarda le cose con occhi candidi, pieni di ingenuità, pieni di stupore, guarda sempre le cose come se li vedesse per la prima volta. Adesso vi voglio leggere proprio dal brano scritto proprio da Pascoli. «E' dentro noi un fanciullino che non solo ha brividi, come credeva Cebes Tebano. Cebes Tebano è uno degli interlocutori del fedone platonico. E Cebes con un sorriso, come fossimo spauriti o Socrates, prova di persuaderci, o meglio non come spauriti noi, ma forse c'è dentro anche in noi un fanciullino che ha timore di si fatte cose. Costui dunque proviamoci di inconvincere a non aver paura della morte come di bisacci di orco», descriveva Platone nel fedone. E quindi dentro c'è Cebes Tebano che prima in sé lo scoperse, ma lacrime ancora e tepù di suoi. Quando la nostra età è tuttavia tenera, egli confonde la sua voce con la nostra. Ed è due fanciulli che ruzzano e contendono fra loro e insieme sempre temono, sperano godono, si sente un palpito solo, uno strillare e un guaire solo. Ma quindi noi cresciamo ed egli resta piccolo, noi accendiamo negli occhi un nuovo desiderare ed egli vi tiene fissa la sua antica serena meraviglia. Noi ingrossiamo e arruginiamo la voce ed egli fa sentire tuttavia è sempre il suo tinnulo squillo di campanello. Ancora in un'altra parte di questa poetica scrive «Egli è quello che ha paura al buio, perché al buio vede o crede di vedere quello che alla luce sogna o sembra di sognare, ricordando cose non vedute mai, quello che parla alle bestie, agli alberi, ai sassi, alle nuvole, alle stelle, che popola l'ombra di fantasmi e il cielo di dei. Egli è quello che piange e ride senza perché di cose che sfuggono ai nostri sensi e alla nostra ragione. Egli è quello che nella morte degli esseri amati esce a dire quel particolare puerile che ci fa sciogliere in lacrime e che ci salva». Che ci salva. E ancora, sempre nella questa poetica, concludeva «Il poeta, se e quando è veramente poeta, cioè tale che significhi solo ciò che il fanciullo detta dentro, riesce ispiratore di buoni e civili costumi, d'amoro patrio e familiare e umano. Ma il poeta non deve farlo opposta. Il poeta è poeta, non oratore o predicatore, non filosofo, non istorico, non maestro, non tribuno o demagogo, non uomo di stato e di corte. E nemmeno è, sia con pace del maestro, un artiere che foggi spade e scudi e vomeri. E nemmeno con pace di tanti altri, un artista che ceselli l'oro e che altri porga. A costituire il poeta vale infinitamente più il suo sentimento e la sua visione, che il modo col quale agli altri trasmette l'uno e l'altra». Ecco, questa è la poetica del fanciullino. Quindi la poesia è nelle cose, nelle cose solo il poeta può conoscere e può indicarla agli uomini. Questo fanciullino quindi guarda sempre le cose come se ridesse la prima volta. Questo fanciullino è dunque la poesia. Questa poesia però deve essere poesia pura, ingenua, semplice. Cioè non deve avere una partecipazione razionale. Il poeta insomma voleva una poesia che non fosse così applicata, ecco che non mirasse a convincere, ad esortare, che non fosse politicamente impegnata, ad ammaestrare. Però, dice ancora Pascoli, se talvolta il poeta riesce a educare e ad ammaestrare, lo deve fare non in maniera di proposito, ecco come proposito, fare apposta, dice. Ecco, il Parini ci... oggi straparlo. Il poeta ci fa comprendere la sua poetica anche da una poesia intitolata La Lampada, in cui paragona la poesia ad una lampada che illumina una rustica o una rustica veglia di donna in tenta filare, o arde davanti ad un'immagine di Maria, o illumina una culla o delle culle. E da questo comportamento, ecco, si deducono i temi della poesia pascoliana, la quale si rivolgeva verso gli aspetti più umili della vita. Dietro la cui apparenza, il poeta sapeva cogliere la presenza nascosta del mistero, e in questo è poesia simbolista, poesia che appartiene anche al decadentismo. La novità essenziale della poesia pascoliana consiste nella forma e nel linguaggio poetico. Il Pasquale in genere rompe lo schema tradizionale, infrange la sintassi comune e ci offre una poesia tutta impressionistica, fatta di sensazioni brevi, fuggevoli, in cui la parola assume un significato sempre nuovo attraverso i valori fonici. Quindi anche qui la parola ha valore anche di suono, è importante. L'arte del Pasquale è complessa, non è facile la poesia pascoliana. La sua poesia è nello stesso tempo ingenua, ma anche molto raffinata, decadente, ma anche umanistica, colta. È la poesia delle piccole cose, ma anche del mistero della vita che ci circonda. Tuttavia la poesia pascoliana a volte può anche avere degli eccessi, pecca magari a volte di ripetizione, di monotonia. La candida ingenuità fanciullesca si può trasformare in quasi un atteggiamento infantile, ma questo è con poche opere. La pietà si può trasformare in un sentimentalismo un po' eccessivo. Inoltre, per esempio, notiamo l'uso a volte eccessivo della onomatopea. L'onomatopea è il volere imitare il rumore delle cose o la voce degli animali. Fra le opere più importanti ricordiamo Mirice. Mirice sono scritte e scritte fra il 1891 e il 1892, furono pubblicate nel 1894. Mirice, la parola Mirice, significa tamerici, cioè sono dei bassi cespugli che il poeta chiama stippi. Ecco, è nota la poesia del Bascoli per la precisione botanica, ritologica, ecco, con il nome preciso degli alberi, delle piante e degli animali. La raccolta è dedicata al padre Ruggero ed ha per motto un verso di Virgilio. Arbusta juvant, humilesque mirice, piacciono gli arbusti e gli umeli tamerici. Sono poesie che trattano essenzialmente di cose molto semplici, sullo sfondo della campagna, ma è anche presente il motivo della morte, soprattutto il motivo della morte e del dolore. E infatti dice Pascoli, queste merici sono frulli di uccelli, stormir di cipressi, lontano cantare, suonar di campane. La poesia del Pascoli è stata detta da un critico e l'unica vera grande poesia interrogativa della letteratura italiana. Il poeta, ecco, con freschezza e serenità coglie a volte gli aspetti più sereni. Ricordiamo per esempio poi nella seconda parte della lezione, quando parleremo dell'antologia, leggeremo Lavandare, Arano, Novembre, l'assiolo. Ecco, non mancano anche poesie di carattere intimo e autobiografico, come il 10 agosto. Il 10 agosto narra la morte del padre, che fu ucciso, fu ucciso probabilmente per Gerosia, per chi voleva prendere il posto nella direzione di questa fattoria, di questo complesso rurale, che sorvegliava e curava. E la famiglia fu gettata nello sgomento e nella povertà. Molti critici preferiscono Pascoli delle Mirice, quindi ecco, il 10 agosto, la poesia che ricorda questo evento, che noi leggeremo. Perché, ecco, molti preferiscono e conoscono, soprattutto questo Pascoli, più sincero, più fresco, ed hanno coniato l'espressione grande poeta delle piccole cose. In realtà la poesia del Pascoli è molto più complessa. E anche, per esempio, i poemi conviviali, cioè il grande poeta del poema conviviale, erano state pubblicate nella rivista Il Convito, di Adolfo De Bosis, e trattano temi epici, storici, e quindi ecco, anche un impegno culturale maggiore. E anche il poeta del mistero. Poi, dopo Mirice, c'è la raccolta dei canti di Castelvecchio, del 1903. Vale lo stesso motto delle Mirice, cioè l'ispirazione è la stessa. Questa raccolta è dedicata alla madre Caterina Locatelli Vincenzi. I motivi sono gli stessi delle Mirice, sono anch'essi canti nati in campagna, ispirati dalla campagna. Trattano però anche del dolore, del mistero. E l'ispirazione però appare qui più serena. L'arte si fa più raffinata, più scaltrita. E tra le poesie di questa raccolta ricorderemo la Cavalla Storla, la leggeremo, la voce, l'ora di Varga. E un'altra raccolta, ma anche importante, è quella intitolata primi poemetti e nuovi poemetti che hanno come motto Paolo Maiora Canamus, cioè cantiamo con poco le cose importanti, le cose più grandi. E che sono dedicate, ecco, i primi poemetti sono dedicati alla sorella Maria, l'unica sorella con cui è vissuto fino alla morte, che rimase, ecco, il patto di solidarietà, di solidarietà, l'altra sorella, invece per il matrimonio, il matrimonio. Ma non si vuole mai sposare Pasquali proprio per non lasciare il suo nido. E il suo nido è rappresentato appunto dai ricordi da Maria. I nuovi poemetti sono dedicati ai miei scolari. Si intitolano poemetti perché sono in terzine, in terzine, e quindi hanno anche un andamento più narrativo, ecco, di racconto che lirico. Questi poemetti si differenziano dagli altri, ecco, qui abbiamo alcune, più che la campagna è presente in questo momento il dolore, il dolore e il mistero. dei poemi conviviali ecco, dove il motto è non omnes arbustae juvant, cioè non ci sono tutti gli arbusti che gioano, ci sono altre cose, quindi altre dimensioni anche di ispirazione poetica. E fra i principali sono quelli di carattere epico come Solon, i vecchi di Nereo, il cieco di Chio, Alexandros, l'ultimo viaggio di Ulisse, la buona novella. Ecco, l'ispirazione, e questo è importante, di questi poemi conviviali è presa dal mondo classico. È un poeta classico, ha tradotto Virgilio, Catullo, Orazio, il mondo classico, ma egli è un umanista un po' particolare, cioè ricrea il mondo classico dal proprio punto di vista personale. Ecco, in modo che tutti i personaggi non sono altro che rivivono gli ideali, i drammi del Pasquali. Cioè i principali elementi di ispirazione sono l'infelicità umana prodotta dalle limitazioni che la natura umana ha con sé, e quindi dalla impossibilità di raggiungere la totale felicità in questa vita. E tutti sono sentimenti moderni, possiamo dire, di carattere esistenzialista. Qualche poemetto tra ispirazione dal cristianesimo, poiché egli amava i problemi ecco misteriosi, preferì del cristianesimo il periodo di transizione e quindi di incertezza, quello tra la fine del paganesimo e il principio del cristianesimo. La forma è sempre molto elegante e raffinata, a volte anche fin troppo preziosa. Poi abbiamo le iote e gli inni. il poeta vuole fare un po' con il poeta civile, ma non era portato per questo e si nota una certa fatica e comunque ecco, ci sono quelle dedicate alla giovanità dell'Italia, l'Italia soprattutto l'Italia quella del Mazzini e le odi sono ammunizioni, preghiere, noi leggeremo di queste la picozza in cui rievoca la fatica della sua crescita, della sua solitudine, molto bella. Gli inni sono poi celebrazioni di eroi, di eroismi e i più belli sono Umberto Cagni, il duca degli Abruzzi, la canzone Re Umberto, Andrè e poi aveva i poemi italici, dei poemi italici noi leggeremo qualcosa dal Paolo Uccello, il grande pittore francescano e che ecco che amava gli uccelli, amava avere qualche uccello però non potendoli possedere li dipingeva allora San Francesco un giorno li apparve e rese vive vivi quegli uccellini che aveva dipinto, molto bello leggeremo i poemi poi di risorgimento abbiamo l'inno a Torino l'inno a Roma poi c'è le 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 canzoni di Re Enzio le canzoni del Carroccio e quindi la con la canzone di Legnano la leggiamo pure perché anche importante la canzone del Paradiso dell'Olifante quindi si è cimentato anche su tematiche storiche epiche importanti poi è stato anche un grande poeta in latino in latino tant'è vero che ha vinto molte molti premi nelle gare che si facevano ad Amsterdam e le sue opere latino sono i Carmina i Carmina Liber de Poetis Res Romane Rurali e poi Metacristiana Pasco Librosatore un po' inferiore ricordiamo la grande proletaria Simbossa per la conquista della Libia la proletaria sarebbe l'Italia che rispetto all'Europa sembrava la Cenerentola la più disadorna e che invece adesso anche lei poteva aspirare a delle terre e poteva istruire con la sua storia e la grandezza della sua storia non era più la Cenerentola d'Europa e poi i suoi studi su Dante ricordiamo la Minerva Oscura sull'allegoria sotto il velame e la Mirabile Visione ecco sugli studi sul Paradiso quindi Pascoli è interessantissimo come poeta io oggi non vi leggo vi leggo nella seconda parte farò la scelta antologica però voglio concludere questa questa lezione di oggi con una poesia che forse l'abbiamo studiata tutti da fanciulli in genere viene studiata e che è un po' un po' quell'emblema della poesia poscoliana si chiama la neve la neve che fiocca lenta c'è un bimbo che piange una culla ecco dove piange un bimbo è un orfano c'è una vecchina che canta una filastrocca e lo cerca di far addormentare dicendoli che si trova in un bel giardino pieno di fiori il bimbo si illude di essere in questo giardino e dorme anche se fuori c'è tanto freddo e la neve ecco fiocca lenta lenta è una poesia brevissima ma molto musicale e freca anche molto e molto ecco e così è un po' crea delle suggestioni impressionistiche delle sensazioni di malinconia di dolcezza per questo bimbo che in realtà notiamo è una è autobiografico è la solitudine è così sentito sempre un orfano leica Pasquali lenta la neve fiocca 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 senti una zana dondola pian piano un bimbo piange il piccolo dito in bocca canta una vecchia col mento sulla mano la vecchia canta intorno al tuolettino son rose e gigli tutto è un bel giardino nel bel giardino il bimbo si addormenta la neve fiocca lenta lenta un capolavoro nella sua brevità è un capolavoro musicale amici per il momento vi saluto e vi do appuntamento alla seconda parte della Pasquali Pasquali poi Pasquali dell'antologico arrivederci Maria Luisa docento lenta lenta il canta il lenta 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.